Coce Riccardi in questi giorni qui a Vasto, a parte il gran caldo che vi ha accolto, come sta andando questa fase di allenamenti e di preparazione? Beh, direi che più del caldo c'è stata l'ottima accoglienza della società che ci ospita, ma in generale di tutte le persone con cui stiamo collaborando, dal personale dell'hotel a chi ci dà una mano in palestra. Quindi il caldo è vero, lo sentiamo, ma l'avremmo sentito dovunque, quindi direi che l'impatto è stato positivo. Momento di raduno, quindi le ragazze fanno gruppo, ci si allena e si prepara anche un appuntamento importante? Sì, che facciano gruppo è una cosa interessante e importante, a noi interessa che si allenino e stiamo mettendo le basi e creando le situazioni perché questo possa portarci un vantaggio. Avere degli obiettivi quando si sta con una nazionale under 16 non è così semplice perché non si conosce il livello europeo di questa fascia d'età, ci sono state poche possibilità di confronto e quindi soprattutto si lavora in funzione della crescita delle atlete, della capacità di creare squadra nella speranza poi di poter fare, senza porsi nessun limite ovviamente, di fare un'ottima attività europea. Il basket femminile sta crescendo, la federazione ci sta puntando, a livello di nazionale maggiore Capobianco sta facendo un ottimo lavoro. Questo poi è accaduta nelle nazionali under, che cosa porta? Guarda, è di pochi giorni, questa notizia è di pochi giorni fa, che l'Italia sta mantenendo stabilmente un ruolo importante nel ranking europeo. Quest'anno addirittura secondi nell'attività giovanile, ovviamente considerando i risultati sia a livello maschile che a livello femminile. Sicuramente forse l'attività delle nazionali dà una visibilità anche al settore femminile. Non sempre però questa ricaduta è stata positiva dal punto di vista della qualità del lavoro e del reclutamento in Italia. Ci auguriamo che alla lunga possa sicuramente avere un effetto boomerang, un effetto positivo. Perché c'è così fatica a diffondere il basket femminile? In altri paesi è molto più diffuso. Mamma mia, è una domanda complicata. Le risposte le cerchiamo anche noi e non sempre arrivano. Sicuramente la cultura degli ultimi anni, la cultura rispetto allo sport, rispetto alla fatica, rispetto all'attività intesa come sacrificio, è un handicap ma a livello generale. Forse la poca convinzione con cui si lavora nel reclutamento sul territorio, però lì dipendiamo un po' dalle società. La federazione mi sembra stia facendo il possibile per creare movimento, per creare attenzione e per creare delle agevolazioni per chi lavora sul territorio. Speriamo a breve che il ritorno ci sia. Ho chiesto al coach perché si fa così fatica a diffondere il basket femminile. Tu invece il basket l'hai scelto, quindi ti chiedo perché hai scelto questo sport? Perché da piccola è venuta a provare una società a scuola elementari e mi è piaciuto subito e allora ho chiesto ai miei di giocare, di venire a giocare. Mi hanno portato in palestra e da quel giorno mi sono innamorata del basket. Iniziò a giocare a basket, sei entrata nella nazionale e sei anche il capitano, quindi doppia soddisfazione ma anche doppia responsabilità. Sì, dopo un anno abbastanza impegnativo, è stato ripagato tutto il sacrificio che ho fatto quest'anno e sono molto felice di questo. Adesso siete qui in ritiro. Come queste fasi, oltre agli allenamenti che fate con uno staff tecnico e non è quello che vi segue durante l'anno nei club, come è vivere insieme agli altri compagni questi momenti? Ci stiamo divertendo molto, siamo un gruppo molto unito, legate anche dalla voglia di migliorare insieme, legate anche dalla stessa passione e ci stiamo divertendo molto anche assieme. Per gli obiettivi che cosa vi aspettate da questa estate? Questa estate speriamo di arrivare il più avanti possibile all'europeo, da domani va allo stage con la Germania e si vedrà a che punto siamo. Tu invece a livello personale hai un sogno legato al mondo del basket? Sì, mi piacerebbe arrivare anche alla nazionale Serie A, però intanto pensiamo di venire presa questo europeo. Nazionale maggiore che hai seguito in questi ultimi giorni, nelle ultime settimane, chi è la giocatrice preferita? Zonda Lasini. È un po' adesso il riferimento del movimento. Esatto. Perché? Che caratteristiche ha? Brava in tutto, mi piace un sacco. In attacco fa dei movimenti che non sono propriamente del basket femminile, è da prendere come esempio.